ciao a tutti ragazzi e benvenuti con questo nuovissimo krio oggi siamo su tanti planet forever come vi avevo promesso io il mio video che ho fatto l'altra volta e oggi andiamo a provare il vero del polpo e il vero del topo quindi proviamo prima il polpo e poi il vero del topo pensiamo all'ultimo numero del polpo questo gioco questo è bello è male guardate questo polpo ovviamente se mancava cose diverse aspetto a livello del gatto e mancava queste piccadette ma perchè si fumano? no smoking c'è scritto non male no stacco di bottiglia e se tocco questo pesce se prendete ad anno ragazzi per dei due centimetri siamo di 5.33 centimetri wow aia ecco adesso ho preso down siamo di 8,74 centimetri e stiamo mangiando di tutto solo che non potremo farlo proprio tutto il livello perchè per fare questo livello ci vuole un casino di tempo anche un po' quello del topo ok aia siamo di 1,5 centimetri siamo di 2,5 centimetri aia 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 siamo grandissimi tra poco potremo mangiarci questi pescidoni boh non me ne conto il nome si lionfish siamo di 28 centimetri tra poco li vediamo a 30 centimetri diamo 30 centimetri e poi li vediamo dopo ok siamo di 31 centimetri quindi ora direi di farvi vedere il livello topo quindi ma in meno play e adesso proveremo il livello topo e stavolta proveremo il livello 11 che non ho avuto nemmeno una stella quindi facciamo il livello 11 e mettiamo qualche livello boh che è il livello buster questo mettiamo questo e poi questo e anche questo so che è un casino di livello buster siamo già di 49 45 4,67 centimetri no metri sono stavolta quindi facciamo il livello buster passiamo a mangiarti il helicoptero passiamo a mangiare per ora passiamo a mangiare siamo di 10,4 centimetri e l'abbiamo già completato ecco adesso abbiamo guadagnato 3 stelle adesso ci guardiamo il video e guadagniamo tanta moneta tik tok ragazzi e arriviamo a 1.300 moneta per avere il livello dell'app ovviamente ragazzi che non guardo sempre i video cioè non riguardiamo quasi mai video per avere moneta però ora riguardiamo un po di moneta va bene ragazzi basta shoppare ci vediamo in prossimo lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con un prossimo video ciao ah vi devo dire una cosa che adesso vi farò vedere vi farò vedere cosa ha fatto cosa ha fatto sul mio canale e andiamo su youtube e guardate non mi chiamo più mario devono ma adesso mi chiamo spiriton 567 e poi ho cambiato immagine del profilo perchè quella di prima faceva schifo i video e poi ho aggiunto anche il rompeggio perchè prima non potevo vedere tutti i video e adesso fa vedere tutti i video che ho pubblicato che ho pubblicato sette mesi fa ad esempio cinque mesi fa e poi poi ho fatto anche la playlist questa è la mia prima playlist e poi questa è la mia seconda playlist ovviamente se volete andare a vedere andate a vedere poi ho cambiato anche le informazioni e ciao ragazzi questo è il mio nuovo e questo è il mio canale youtube porterò video di JovoBlox e Brawl Stars e tanto altro buon divertimento iscritto il 16 marzo 2017 e la mia ricotta di visualizzazioni sono 693 visualizzazioni quindi ragazzi road to 700 visualizzazioni ma va bene così quindi adesso chiudiamo il video come le persone normali e noi ci vediamo presto con un nuovissimo video ciao